Il consigliere comunale rivano della Lega Nord Pier Giorgio Zambotti ha scritto un'interpellanza al sindaco Mosaner in merito all'attualissima questione del futuro dell'area ex Cattoi di Viale Rovereto. Zambotti scrive che, ora che ci sono dei proprietari dell'area, da molti rivani viene la richiesta che il sindaco si attivi per far demolire la brutta carcassa dell'ex segheria o quantomeno schermarla in modo armonico con l'ambiente, in quanto il rudere non trasmette un'adeguata immagine estetica in una realtà turistica come la nostra. L'area è stata bonificata e recintata con denaro pubblico e la proprietà si è espressa in favore di un dialogo costruttivo con la città e certamente questo potrebbe essere il primo passo. Il consigliere poi invita il sindaco a consultare i rivani sul futuro dell'area ex Cattoi.